La scalata del comitato Pacassoni è riuscita in pieno. Maria Flora Gianmarioli, attrice e comproprietaria del Bardan e la nuova presidente dell'ente carnevalesca, è stata eletta all'unanimità dal nuovo dirittivo e della prima donna alla guida della storica società fanese. Ma non è tutto, perché dopo le votazioni venerdì scorso uno ad uno si sono dimessi il predecessore Luciano Cecchini e gli otto consiglieri della sua compagine. Lo avevano annunciato e così hanno fatto. Non ci può essere una collaborazione, ha spiegato Cecchini con chi ha offeso l'ente che ha presieduto per ben sei anni. Le dimissioni erano l'unico modo per non paralizzare i lavori ed uscire da questa impasse. Lo abbiamo fatto per il bene del carnevale. D'altra parte invece hanno gioito e festeggiato i sostenitori di Gianmarioli. Venerdì sera è stata una serata un po' tesa, questo non va negato, anche da parte nostra ovviamente. Io ho proposto un vicepresidente a loro, sperando fino all'ultimo che si potesse comunque in qualche modo collaborare. Non è stato possibile, io rispetto e capisco anche da una parte la loro scelta. Adesso i nuovi consiglieri dimissionari dovranno essere sostituiti con i primi dei non eletti. Ecco chi ha ricevuto più voti. I primi nominativi della lista sono tre persone del gruppo Pacassoni, Antonio Fortuna, Danila Ligi e Stefano Giuliani. A questi seguono Maria Rossi, Francesco Cavalieri, Tommaso Mercanti, Luca Danti, Andrea Corneli e Umberto Gennari. Una volta convocati dovranno decidere se accettare o meno l'incarico. Nel frattempo la neopresidente è già al lavoro per il carnevale estivo, in programma per venerdì 1 luglio. Oggi è lunedì, sono già al lavoro, ho già fatto delle telefonate, diciamo che l'impostazione c'è già, sto ricevendo delle risposte, dei preventivi, quindi direi che se non ci sono intoppi burocratici piuttosto che di altro genere, noi siamo abbastanza pronti. Ora il comitato Pacassoni che ha in mano le redini del carnevale si impegnerà per far tornare al centro dell'evento i carristi e le loro creazioni di carta pesta, rendendoli partecipi anche delle scelte dell'ente. Altro obiettivo sarà quello di coinvolgere l'intera cittadinanza. Saremo in linea diretta con la città, anche tutte le persone che hanno firmato ai banchetti del comitato Pacassoni che non sono tesserati, comunque li coinvolgeremo, li terremo informati, la carnevalesca ha le porte non aperte ma spalancate e comunque saremo noi a continuare ad andare in città, quindi non è che staremo chiusi qui in carnevalesca. E comunque ripeto, la carnevalesca è aperta alla città. A generare per favore quella mascherata, il primo è in carico.